Andiamo avanti. Geocities è stato forse l'antesignano dei social network via web ed è stato l'avvio del mutamento nel cambio di ruizione dei servizi di comunicazione elettronica interattiva. Prima dell'arrivo dell'HTTP e quindi del web, come vi ho detto, sostanzialmente l'utilizzo dei servizi di comunicazione elettronica interattiva era legato a una dimensione di scambio e quindi di interazione fra persone. Geocities era, l'idea peraltro era anche culturalmente interessante, era quella di ricreare su un server utilizzando la tecnologia web il mondo, una carta geografica. E quindi c'erano letteralmente degli indirizzi con i nomi delle città, i nomi dei quartieri, le vie, chiaramente a volte reali o a volte di fantasia, che erano associate a determinati contenuti. Se eravate appassionati di Inghilterra avevate London slash qualche cosa, ad esempio. Ed è interessante, ripeto, Geocities perché la sua modalità di funzionamento, anche per via delle limitazioni tecnologiche, era sostanzialmente passiva, cioè io pubblico contenuti che vengono fruiti passivamente dalle altre persone. Certo c'era la possibilità di linkare tutto quello che volete, però il dato di fatto è che Geocities è il primo momento nel quale si passa dalla interazione e quindi dalla bilateralità della comunicazione elettronica ad una passivizzazione della fruizione del servizio. Geocities era sostanzialmente un grande giornale, una grande pubblicazione, nella quale non c'era più il livello di interazione che era possibile con i newsgroup e con IRC. Era possibile pubblicare testi, audio, video, però il concetto è che già con Geocities si irrigidisce il ruolo fra chi propaga o chi mette a disposizione un'informazione e chi ne fruisce. Adesso è chiaro che la storia dell'evoluzione tecnologica dei social network è particolarmente articolata. Sto andando veramente per salti. Il passo successivo è quello di MySpace. MySpace per delle ragioni mai realmente ben comprese diventa lo spazio dei musicisti. Per moltissimo tempo se facevate musica, avevate anche una band locale, eravate su MySpace. MySpace accentua, e forse questo è stato il motivo del perché ha attirato determinati tipi di utenti. MySpace accentua la componente passiva basata sulla televisionizzazione. Quindi il pendolo che ha un estremo l'interattività e all'altro estremo la passività comincia a spostarsi dall'interattività massima verso la passività più totale. Perché Facebook è quello che in inglese si chiama game changer? Perché scompiglia il mercato sfruttando prima e meglio di tutti le nuove possibilità di relazione offerte dalle tecnologie disponibili. Cose che non erano, tecnologie che non erano disponibili, perlomeno non in modo così facile e così utilizzabile, ai tempi pionieristici dell'internet. Tutto questo è sintetizzato nel claim della Facebook iniziale che era It helps you connect and share with the people in your life. Quindi l'essenza di Facebook, al di là di come è nata, del perché, degli aneddoti che si raccontano su Zuckerberg, l'essenza del momento della commercializzazione, della strategia commerciale di Facebook era quella di creare relazioni e di capitalizzare gli effetti della creazione di relazioni. Dunque, dove MySpace e Geocities offrivano autoreferenzialità, Facebook prometteva interazione. Vi ricordo ancora una volta, evitate di prendere quello che dico per Vangelo, ho fatto una serie di affermazioni, verificatele. Ora, la domanda che ci potremmo fare è perché ci sono tanti social network e tanti continuano, perché sono nati molti social network e perché altri continuano a nascerne. E qui entriamo in una componente che, ancora prima che normativo giuridica, è ancora una volta legata al marketing e alla comunicazione. E la risposta a questa domanda vi spiega anche il perché il mercato della profilazione è o le attività di profilazione sono fondamentali per almeno un certo tipo di successo in questo ecosistema. Ogni social network soddisfa un audience in termini di età, interessi, canale di comunicazione e strumenti tecnologici. Quando ci siamo conosciuti alla prima lezione e ho chiesto a chi di voi avesse un profilo Facebook, alla risposta che non molti ce l'avevano, ho commentato. Beh, è normale visto che oramai Facebook è una roba da cinquantenni e qualcuno di voi ha anche sorriso a questa conclusione. Però quella frase che non ho detto a caso perché mi è servita poi per preparare questa lezione a distanza di settimane è indicativa del fatto che esiste un prodotto per ogni categoria di persone. Quindi i social network tematici come per esempio SoundCloud che è un social network dedicato inizialmente ai musicisti ma in generale adesso a tutto ciò che è suono presuppongono la identificazione della quantità di persone che possono avere interesse per un determinato argomento, analisi che consente la creazione di un modello economico industriale per capire se ha senso investire in quella nicchia di mercato. Un altro esempio sono i social network per scrittori, per artisti, per fotografi. Se andate a vedere la caratteristica comune di questi social network è proporsi come dei baricentri, come degli attrattori gravitazionali di persone che condividono uno stesso interesse. dove Facebook è generalista, dove su Instagram ognuno fa quello che vuole, su 500 pixel oppure appunto su SoundCloud c'è un audience che rientra in un target specifico. Attenzione però, dov'è la fregatura? In particolare per quanto riguarda i social network che hanno dei profili premium a pagamento e via discorrente, che fanno quello che sono strutturati e sono pensati né più né meno come i sistemi che i Robert Barron americani avevano messo in piedi ai tempi, come i padroni delle ferriere, che avevano messo in piedi quando si trattò di costruire la ferrovia che trasformò gli Stati Uniti da paese rurale in industriale. Che cosa accadeva? I Robert Barron avevano messo in piedi il sistema del deprivare le persone del valore del loro lavoro pagandole non in dollari ma in buoni, nella sostanza. Immaginate dei lavoratori più o meno schiavizzati che si mettevano a costruire la ferrovia, quindi scavavano, buttavano giù traversine, tagliavano, insomma si ammazzavano di lavoro e invece di ricevere soldi ricevevano dei buoni acquisto in dei negozi di proprietà del loro datore di lavoro al cui interno i prezzi venivano decisi dal datore di lavoro. Non devo spiegarvi oltre qual è la conseguenza di un sistema del genere. Un altro atteggiamento estremamente diffuso nell'America di un secolo e mezzo fa è quello che potremmo definire, sintetizzare come vendere picconi ai cercatori d'oro. In altri termini, quando c'è stata la corsa all'oro, chiaramente chiunque ha cercato di avere la propria chance per cercare l'oro, al di là di tutto, quello che serve sono degli attrezzi. Bene, c'è chi è diventato ricco sempre per via della corsa all'oro, ma non per chi ha trovato l'oro, ma perché vendeva ai cercatori d'oro gli strumenti necessari a ricercare, facendosi pagare in anticipo e quindi non avendo nessun interesse alla sorte di queste persone. Riavvolgiamo 200 anni di storia e torniamo al discorso dei social network tematici. Se voi andate su determinati social network tematici che possono avere una potenziale utilizzazione professionale, che cosa succede? Succede che vi vengono venduti molto spesso come il luogo dove potenzialmente potete essere notati dall'azienda che ha bisogno del fotografo, dalla casa discografica che ha la ricerca di nuovi talenti e via discorrendo. Magari c'è anche qualche caso di successo più o meno reale, magari è stato anche organizzato a tavolino come strumento di marketing, e c'è anche qualche caso di successo che vi dimostra che se pubblicate i vostri scritti su quella determinata piattaforma, il grande editore vi potrebbe notare e potreste diventare la nuova Rawlings. E quindi voi andate a pagare dei soldi per utilizzare un social network dal quale vi aspettate un ritorno in termini professionali che molto probabilmente non arriverà mai e finite preda della sindrome a pacche sulle spalle, per cui mettete dei like al lavoro altrui per sollecitare la reciprocità e ottenere dei like sulla vostra opera. Siete gratificati dall'avere qualche centinaio o qualche migliaio di like, ma se ci pensate un attimo, il fatto di avere tutti questi like dal punto di vista della valorizzazione del vostro lavoro è del tutto irrilevante, perché un like è l'equivalente dello sguardo distratto di un passante che sta sentendo la musica di un basker, di un suonatore di strada, che per un attimo lo guarda e dice ah che bravo e poi tira avanti. Quindi i modelli commerciali sulla base dei quali sono costruiti i social network giocano anche su queste componenti psicologiche, questa è un'altra dimostrazione del perché è importante la profilazione, perché se profilo so come progettare il servizio, il che ci porta ad un altro tema che caratterizza la concezione di un social network, l'utilizzo dei canali di comunicazione. Ci sono social network in funzione dei singoli canali di comunicazione preferenziali di ciascuno di noi o di quelli prevalenti. Perché sono importanti i canali di comunicazione? Perché se ci rivolgiamo ad una persona utilizzando il suo canale di comunicazione preferenziale, questa persona comprenderà più facilmente quello che gli stiamo dicendo. Se invece utilizziamo il canale di comunicazione sbagliato, inseriamo nel contatto una fatica cognitiva che rallenta la capacità di percezione della persona e ci rende meno gradevoli. Il risultato pratico qual è? Questa cosa, ripeto, è straordinariamente più complessa. Ha dei risvolti etici fortemente discutibili, a mio modo di vedere, ma ha anche un'applicazione pratica nella progettazione di un social network. Perché se io penso di fare un social network per musicisti e lo progetto in modo visuale, sto creando una piattaforma che non attrarrà persone che invece sono molto più a loro agio nell'interagire con i suoni. Ripeto ancora una volta, è una semplificazione, però vi dà il senso di quello che sto dicendo. Quindi capite ancora una volta che gli elementi della profilazione sono centrali. Così come la profilazione non è soltanto quella che abbiamo visto fino ad ora, ma è anche quella legata all'utilizzo di determinati strumenti tecnologici. Se guardate la pubblicità degli anni 90, essere cool, essere figo era andare in giro col portatile e quindi tutta la narrativa della comunicazione basata sulla vita in mobilità, sulla vita in movimento, era legata ad andare in giro col portatile figo. Adesso l'interazione è lo smartphone, nemmeno il tablet, è lo smartphone. E il portatile è diventato una roba da vecchi. Quindi il risultato, il discorso qual è? Se io vado a pensare, e questo vi spiega il successo di Instagram, se io vado a pensare un social network basato su una tecnologia che non è accettata dalla mia audience di riferimento, potrò fare il social network più figo del mondo, ma vado a sbattere contro un muro. Riassumendo quindi sul punto, possiamo dire innanzitutto che i social network non sono necessariamente gratis, nel senso che anche quelli che campano di analisi e profilazione dei dati possono chiedere dei soldi. LinkedIn è uno di questi. Il primo livello di accesso è gratuito, se volete dei servizi in più pagate l'abbonamento premium. Molti, per non dire tutti, social network hanno come approccio quello di vendere pale ai cercatori d'oro. Cioè promettono fama e fortuna, ma sanno già di non poter mantenere questa promessa. Altri social network fanno entrambe le cose.